Da lunedì 25 giugno agli uffici tributari di Corso Lucci si accede solo su prenotazione. Bisogna collegarsi al sito www.comune.napoli.it, registrarsi ai servizi online nella sezione accedi ai servizi, cliccare su prenotazione ufficio tributi e scegliere il giorno e la fascia oraria. È possibile prenotarsi anche presso gli uffici di Corso Lucci dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00.